ciao a tutti ragazzi sono karen talebano e siamo qui per un video pull di un solo pull video merda siamo pronti per andare a pullare voi siete pronti siamo tutti pronti per questo fantastico pull fantastico un solo pull perché non tengo dreambole dreambole nottengo e l'ultimo step garantito a burgo personaggio che desidero è snedere il caesero perché mi manca un caesero per tutte le copie se tu vuoi il mio kebab un euro ora sono pronto cazzo di tiroide che mi fa aspettare quindi sono pronto voi siete pronti andiamo ci tengo a precisare che questo video non ho sfottato verso qualsiasi razza culturale o che babaro qualsiasi cosa è semplicemente che mi sento in stile russo che babaro scelto che babaro quindi non prendetela male quindi siamo pronti fortuna del kebab dini a me uno due tre fortuna che pub sta andando fortuna kebab sta caricando oh mamma patti cosa stai facendo mia patti uno l'è garantito quindi uno devi uscire per forza c'è mo puoi fare quello che vuoi ma uno devi uscire per forza quindi vedi cosa vuoi fare vedi da chi vuoi andare ma uno devi uscire da precisare che voglio caesero col tiro non con il cibo l'acca non col ticcoli per favore capitano super zero non mi deludere io ho grandi aspettative in te e tu ho grandi aspettative a me noi amici del cuore e che facci amici forever per favore dammi pure che voglio vodica birra bello mi piace il tuo cappello tu non sei un piatto figlio di punta che parata jesus christ oh mamma mia shinji senaga importante giocatore campione mondiale di tennis negli europei della bongoslavia oh mamma questo è il panettiere famoso panettiere in tutto il mondo tutto il giappone che conosce lui famoso panettiere da piccolo giocava a calcio ah gesus dammi un cazzo di ssr cioè io speravo almeno in due ma stiamo solo a uno cioè uno solo con l'ultimo garantito quindi dammi sto cazzo di hamburgo player di merda e leviamoci davanti io sono pronto questo è il mio ssr palla garantita palamburgo palamburgo che si rompe mamma mia che emozione genzo welcome my dadas meglio di cazzo perché io tengo genzo mi manca una coppia ora può fare perfect genzo not bad not ultra good but not bad i like genzo grazie a studio mio amico support ah tengo ticket spera no non levare video tengo ticket vedo fare ticket 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 andiamo con ticket mi può uscire Snyder Snyder è anche da tutti i bozza che tira oh mio dio che emozione incredibile io non ci credo lui esser mio orci inimigo uscire su dream team io arrabbiare uscire su zero io arrabbiare io odiare cugino yuka io ti odio tu mi odi per questo video è tutto vi ringrazio per aver visto il video se vi è piaciuto e divertito sub iscrivetevi al canale se vi è offeso perché pensate che sono razzista cancellatevi del canale anche se è palesemente un video solo per troll però per questo video è tutto ci mettiamo più tardi per analisi di brian dream festival 2.0 che è palesemente una coppia di brian dream collection grazie a tutti un bacio e un abbraccio amén